Il gioco d'azzardo online in Italia vale 18 miliardi e mezzo di euro all'anno nonostante le azioni e i controlli dell'amministrazione finanziaria e i blitz di procure e guardia di finanza. Nel 2022 la spesa per il gioco online autorizzato attraverso 90 concessionari dello Stato è stata di 3,8 miliardi di euro con una contribuzione all'erario di circa un miliardo, un nemico invisibile e difficile da individuare. Negli ultimi nove mesi i monopoli hanno chiuso quasi 300 siti illegali offshore.